Bentornati ragazzi su Giovi HD Spoh, io sono Giovi Spoh, ormai mi conoscete tutti, scusate la notifica di Facebook e dunque siamo qui con quest'episodio del nuovo Team of the Week possibili giocatori IFS questo Team of the Week è il Team of the Week tredicesimo, sto facendo una sorta di predizione per il Team of the Week tredicesimo avremo probabilmente uno, due big, big, big giocatori, ma di quelli proprio top, 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 top li avete visti anche in copertina, perché io nell'immagine, non nella copertina, nella miniatura del video vedrete chi sono questi giocatori comunque noi cominciamo con difensori, il portiere come al solito non riesco a capirlo è più difficile cercare un portiere, secondo me comunque il primo è Jan Schke, non so come si dica un gol a partita 23 a 1 il prossimo è Garai, partita vinta 4 a 0 dallo Zenith, lui ha realizzato una rete, quindi ci sta allora, piche, potrebbe uscire sia lui che il prossimo, che vedrete a breve piche ha fatto un gol a partita 25 a 1 dal Barcello Himmers, argentone, ha fatto, aspettate che lo trovo, due gol a una partita diventa 5 a 2 fuori cassa 5 a 2 fuori cassa, ovvero 2 a 5 Moigomez, questo ha già ricevuto una versione IF ed era argento, questa sarà la versione SIF, oro Moigomez ha fatto due gol a partita diventa 4 a 0 ed è entrato nel secondo tempo quindi un giocatore che entra nel secondo tempo fa una doppietta, un esterno, molto molto probabile che esca in forte Carrillo Carrillo, come sua squadra ha fatto ben due, no che cazzo sto dicendo? ha fatto un gol e due assist, Carrillo una partita diventa 3 a 1 fuori cassa dal porting, dovrebbe essere il porting di SIF, si comunque procediamo, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo uscirà secondo me per forza, ha fatto 3 gol a partita diventa 3 a 0 allora Cristiano Ronaldo, questa sarà la versione SIF per me questo è sicuro che esce Cristiano Ronaldo per vari motivi primo ha ricevuto, questa dovrebbe essere la sua seconda versione in forma secondo ha fatto 3 gol, secondo terzo ha fatto vincere proprio, praticamente lui da solo la squadra, il Gran Madrid perché ha vinto 3 a 0 e la sua squadra ha vinto 3 a 0 quindi Cristiano Ronaldo per me uscirà in forma quindi preparatevi perché il mercato di foot riceverà un grosso come posso dire, un grosso stravolgimento sarà stravolto come successe quando uscì Messi, record breaker che in sostanza era una versione SIF succederà anche questa volta, questo mercoledì con questo Team Woodwick 13 e se esce anche il prossimo giocatore che vi sto per dire allora di sicuro succederà un macello sul mercato di foot dunque, Cristiano Ronaldo, 3 gol statistiche da paura, mamma mia 96 di tiro, potrebbe avere 95 mamma mia, pazzesco Wijnaldum, questo è un centrocampista offensivo centrale ha fatto 2 con una partitività 3 a 1 fuori cassa dal PSV il prossimo è Chupo Motting subito dopo una settimana già la sua seconda versione in forma perché veramente sta giocando bene ha fatto 3 gol la partitività 0 a 4 fuori cassa dall'offshark quindi molto molto bene ed ora Lionel Messi versione TIFF ragazzi, versione TIFF perché ha fatto 3 gol la partitività 5 a 1 allora, qui c'è da fare un ragionamento allora, Messi ha ricevuto una versione record breaker una versione record breaker è simile a un TOTS un TOTS eh, ora l'IA deve pensare o facciamo Piquet o fanno Messi una terza decisione potrebbe essere potrebbe essere facciamo entrambi allora, Piquet secondo me uscirà quasi sicuramente perché il gol comunque l'ha fatto quindi più probabilità ce l'ha anche se la squadra ha subito un gol però non è che abbia perso ha vinto il Barcelona ha vinto 5 a 1 Messi ha fatto 3 gol è vero ma ha già ricevuto un record breaker che equivale a un SIF quindi un TIFF fa uscire già un TIFF sembra strano però, però siccome è riuscito una versione record breaker ufficialmente non era la sua versione SIF quindi questa del 96 sarebbe la sua versione SIF cioè, non so se mi state seguendo questa versione questo Messi 96 sarebbe il SIF eh, non so se mi spiego quindi potrebbe anche uscire questo Messi e se esce Messi è Ronaldo nel senso T-Mode Week automaticamente mettono i pacchetti speciali è scontato e automaticamente i prezzi dei giocatori si abbassano dunque è da pensarci qua è da pensarci ditemi voi secondo voi se uscirà Messi SIF è Ronaldo SIF ditemi voi cosa ne pensate e continuiamo con la panchina proprio in maniera veloce abbiamo Ben Alun un gol una partita vinta 3 a 2 Antonele un gol una partita 1 a 0 contro il Milan Sissena due gol una partita 2 a 1 contro il Censi ed è entrato nel secondo tempo Carroll qua mi sono sbagliato non l'ho messo il IF allora due gol un assist quindi Carroll uscirà questo potrebbe essere addirittura uno dei Portimo Duic più forti Kleber ha fatto un gol una partita vinta 2 a 1 Gimenez un altro gol partita vinta 0 a 2 fuori casa dall'altretico e Jakobsen ha fatto ha fatto un gol praticamente 3 a 2 fuori casa dunque ragazzi ditemi cosa ne pensate se se non da voi uscirà Messi Ronaldo P.K mamma mia Garai Ciupo Mottingers Sif Wijnaldum ditemi voi se secondo voi uscirà Messi o P.K per me Ronaldo è sicuro 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 che esce invece Messi boh è un po' in sospeso ditemi secondo voi se uscirà Messi o P.K ditemi cosa ne pensate di questo team di week ditemi secondo voi quali giocatori usciranno in più dunque commentate mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi